Ciao cari amici, sono qui per annunciarvi e dirvi questa cosa, un comunicato importante Il comunicato importante è che non ho più un produttore Non ho più un produttore e questo non vuol dire che finisci salvo celestiano Perché prima non ce l'avevo pure Perciò è un comunicato importante perché se mi volete chiamare per i vostri eventi Non dovete più chiamare il vecchio numero ma il numero che c'è in questo video Che metterò in questo video Perché non ho più un produttore? Ci sono tante risposte che potrei dare e che non voglio dare tra l'altro Comunque non abbiamo più accordi in comune e ci siamo divisi Perciò parlo per la gente che sicuramente parlerà molto di questa cosa Di non mettere, di non inventare cose assurde perché non è così Assolutamente non è così Allora io vi lascio appresso con tante novità che vi farò sapere Un bacio dal vostro salvo celestiano